L'Italia della Liretta. Sfatare il mito. Valerio Spositi. Da quando l'ipotesi dell'uscita dall'Eurozona dell'Italia ha trovato poco spazio anche nei talk show, nei telegiornali e nei quotidiani anche se non tutti è sempre più frequente. Imbattersi in commenti del tipo, torneremo all'Italia della Liretta. Che fine faremo? Lo Zimbabwe. Saremo un paese da Terzo Mondo. A fronte di tali affermazioni. Vedremo come quest'ultime sono prive di fondamento grazie. All'ausilio di grafici ed analisi economiche e statistiche della Banca d'Italia. I stat. OX ed istituti finanziari internazionali come Thompson Reuteras. Come chiunque sa. Oggi siamo in recessione ovvero con un PIL negativo con prospettive di. Peggioramento per il 2013. Andiamo a vedere allora com'era la produzione industriale italiana prima dell'entrata nella moneta unica. Confrontandola con quella relativa agli altri paesi principali dell'Eurozona. E' come oggi. Il grafico che potete vedere qui sopra è stato riportato dalla Banca d'Italia nella relazione. Annuale del 2011 nel capitolo Andamenti macroeconomici. Politiche di bilancio e politica monetaria nell'area dell'Euro. Come potete benissimo notare. Nel 2001 l'Italia era la prima della classe. Il paese più produttivo. Oggi. Nell'Eurozona. L'Italia. Come potete notare nella parte del grafico relativa all'anno. 2012. E' sprofondata al penultimo posto. Prima della Spagna. La produzione industriale italiana è stata distrutta. Ma date un'occhiata a chi? Mentre nel 2001 era l'ultima della classe. Ora. Nell'Eurozona. E' invece la prima. La Germania. Spostiamoci ora sulla competitività dei principali paesi europei prima dell'entrata. Nell'Eurozona e dopo. Anche il presente grafico è stato presentato dalla Banca d'Italia nella relazione annuale e del. 2011 nel capitolo andamenti macroeconomici. Politiche di bilancio e politica monetaria nell'area dell'Euro. Potete benissimo notare come. Prima del 2002. L'Italia e la Germania stavano più o meno la pari in termini di competitività sui mercati. Erano le migliori d'Europa. Mentre nel 2011. Dato che un aumento dell'indicatore indica una perdita di competitività. La Germania dell'Euro ed in misura minore anche la Francia ci ha sorpassato di gran lunga. Relativamente alla Germania è bene ricordare. Però. Come essa abbia completamente schiacciato il costo per unità di lavoro già dalla fine degli. Anni 90 per prepararsi all'entrata nell'U.M. Nelle parole di Jan Kregel del 1998. La Germania sembra aver adottato una politica di controllo della crescita dei salari nominali. Ha un tasso che è inferiore alla crescita della sua produttività interna. I costi unitari del lavoro tedeschi sono in calo se la Germania infatti continua a cercare. Come sembra abbia fatto per circa due anni. Di abbassare i suoi costi unitari del lavoro al 5% cioè a prezzi che sono. Sostanzialmente inferiori a quelli degli altri paesi europei. Senza più la possibilità. Come avvenuto in passato. Di rivalutare il marco rispetto alle altre valute questo. Significa che. Se io sono un costruttore o un governo di un paese europeo non tedesco. Sperimenterò margini di profitto in calo finché anch'io non riuscirò a comprimere i miei costi. Unitari del lavoro. Pertanto. Se vi è il rischio associato con l'introduzione dell'U.M. di una. Moneta unica nelle condizioni in cui la Germania sta praticando una politica basata sulla. Convinzione che in termini assoluti costi salariali sono troppo elevati rispetto all'Asia e. agli Stati Uniti non internamente. Relativamente all'Europa ci saranno pressioni deflazionistiche molto forti sulle retribuzioni. Degli altri paesi europei. Che produrranno un rischio che è. Direi. Ora approssimativamente in equilibrio tra inflazione e zero deflazione. È esattamente ciò che è accaduto e che sta accadendo. È per quanto riguarda il commercio estero. Chi era il paese dominante? Per rispondere a questa domanda è sufficiente mostrarvi questi grafici. Mostrati dagli economisti a Matt Stefani e Kelton. Marshall Auerbet e William Black. Michael Addison è dai uno dei padri della teoria del circuito monetario. Alan Pargens. Al summit di Modern Money Theory di Rimini tenutosi dal 24 al 26 febbraio 2012. Il grafico seguente mostra le partite correnti export-import dei principali paesi. Dell'Eurozona prima che adottassero l'euro? Nel 1997. L'Italia godeva di un surplus commerciale. Mentre la Germania era in deficit. Guardate ora cosa è accaduto con l'introduzione dell'euro. Chi ci ha guadagnato? Come riportava anche il sole 24 ore il 6 giugno 2012. È qui arriva il primo dato che dà la dimensione di quanto la Germania fino ad oggi stia. Tecnicamente beneficiando, in termini finanziari ed economici, da questa crisi. Nei giorni scorsi il BUNA tedesco a 10 anni prezzava un rendimento dell'1,345% annuo? Mai così basso nella storia? Se si depura questo tasso per l'inflazione che viaggia oltre il 2% si ottiene un rendimento reale negativo. Dato che, letto al contrario, equivale a una sorta di ristrutturazione gratuita del debito. Pubblico tedesco. Niente male. Come vantaggio in tempi di crisi. Anche perché questo avviene mentre i vicini. Quelli più a sud annaspano. Costretti a pagare rendimenti reali da record sul debito. È qui arriva il secondo vantaggio della Germania da questa crisi. Questa volta più economico che finanziario. Negli ultimi mesi è infatti aumentato lo shopping della Germania di imprese italiane ed europee. Ha prezzi scontati. Ma non finisce qui. La Germania. Quello stesso paese che nel 1997 pagava sui BUNA da 10 anni un tasso del 5,5%. Non lontano dal 6,1% dei BTP di quel tempo. Funziona alla grande con l'euro. Lo dimostrano i dati sulla bilancia dei pagamenti correnti che registra tutte le transazioni. Economiche di un paese tra residenti e non residenti e quindi anche il saldo import-export. Dal 1989 al 2000 quindi in piena fase pre-euro la bilancia dei pagamenti correnti della. Germania era in rosso per 126 miliardi. Dal 2001 al 2012 a quando in piena fase euro. Comprendendo anche l'attuale fase di crisi dei paesi periferici e balzata in positivo a quota. 1791 miliardi dati Bloomberg agrilanciati dalla trasmissione televisiva mercati. Che fare di banca medio Lanum, è l'Italia. Prima dell'introduzione dell'euro aveva una bilancia dei pagamenti correnti positiva 53. miliardi contro meno 388 accusati nel periodo successivo. Altre esternazioni prive di fondamenta che è facile sentire sono quelle relative al debito. Pubblico. Agli eccessivi deficit di bilancio. All'inflazione degna di Weimar e quant'altro. Andiamo ora a vedere. Secondo l'ordine poc'anzi scritto. Il problema del debito pubblico e dei deficit di bilancio. Ho già scritto più volte come un paese con piena sovranità monetaria ed una fiat money non. Possa mai fallire. Neanche a fronte di debiti pubblici giganteschi. Ciò è stato oggetto di numerosi studi accademici e soprattutto da parte dell'economista Charles. Guzzarat. Professore alla London School of Economics che ha lavorato anche nel banco Venglanad. Monetari Polici Committe è dal 1997 al 2000. Anche l'ex governatore della Fed Alan Greenspan è dello stesso avviso. Gli Stati Uniti possono pagare ogni debito che hanno perché possiamo sempre emettere moneta. Per farlo. Quindi c'è una probabilità pari a zero di fare default. Per quanto concerne i deficit di bilancio. Ne ho già parlato in un mio articolo pubblicato tempo fa ma andiamo ad analizzarli più nel dettaglio con l'ausilio del seguente grafico. Il grafico appena riportato mostra i saldi settoriali dell'Italia in percentuali al PIL. Come potete notare. Ad un deficit di bilancio governativo Public Sector Financial Balance. Corrisponde specularmente un surplus di bilancio privato. Private Sector Financial Balance. Ciò sta a significare che un deficit di bilancio del governo GT. Spesa pubblica tassazione comporta un aumento della ricchezza finanziaria netta per il settore privato famiglie, aziende, banche. Più il governo è in deficit più la ricchezza finanziaria netta di famiglie e aziende aumenta. Qui di seguito possiamo vedere un'ulteriore analisi dei saldi settoriali ma questa volta. Relativa agli Stati Uniti d'America. Utilizzata dalla prof. Assas Stefani e Kelton in un suo articolo. Stessa situazione come per l'Italia. Ad un deficit, il governativo corrisponde un surplus privato. Di seguito un ulteriore grafico dei saldi settoriali dal 1952 al 2011 degli USA. Ma noi siamo nell'eurozona. Dove non possiamo più emettere la nostra moneta per finanziare la spesa pubblica ma dobbiamo prendere in prestito dai mercati dei capitali privati internazionali. Banche commerciali. Fondi di investimento. Fondi pensione. Edge. Edge. Ogni singolo euro ha i tassi di interesse decisi dai mercati dei capitali medesimi. Questa è la principale drammatica causa della crisi dell'eurozona. Per entrarvi più nel dettaglio possiamo leggere cosa scrisse un altro economista della Moderan. Monet Theory nel 1998. Ben quattro anni prima che l'euro diventasse la moneta unica. Matteo Forsthalter. Le forze di mercato possono richiedere una politica fiscale prociclica durante una. Recessione. Aggravando gli effetti recessivi anche se non ci fossero limiti imposti sul. Deficit dei paesi e dei debiti nazionali. La struttura della UEM rende quasi impossibile per un paese adottare una politica anticiclica. Di bilancio anche se ci fosse la volontà politica. Questo perché? Cedendo la loro sovranità monetaria nazionale. I paesi non sono più in grado di condurre una politica fiscale monetaria coordinata. Essenziale per una risposta completa ed efficace alle crisi periodiche della domanda. Per concludere. Passiamo a vedere i dati relativi all'inflazione connessa al risparmio delle. Famiglie alla chiusura del credito da parte delle banche alle imprese. Attenendoci ai dati Istat nel 1980 l'Italia aveva un'inflazione pari al 21,2%. Molti ora staranno pensando che eravamo nella situazione dello Zimbabwe. Di Weimar. Era l'anno in cui le famiglie consumavano tutto il loro reddito. Non risparmiavano nulla poiché i prezzi continuavano a salire senza sosta. Stando ai dati Ocse. Questa semplificazione l'ennesima priva di fondamenta non regge. I dati Ocse ci dicono che nel 1980 il risparmio delle famiglie era il 25%. Il più alto risparmio al mondo. Ma vediamo anche i dati relativi al 1990. Con un'inflazione molto più bassa. Il risparmio privato delle famiglie era aumentato al 25,5% dati Ocse e l'inflazione viaggiava. Al 6,5% dati Istat. Ancora l'Italia leader mondiale del risparmio delle famiglie. Nel 2009. Sempre secondo l'Istituto Nazionale di Statistica. Avevamo un'inflazione pari allo 0,8%. Gli economisti tromboni della televisione diranno che questo è un ottimo livello. Che con un'inflazione del genere siamo un paese moderno. Ricco e produttivo. Ahimè nemmeno questa affermazione supera la prova dei fatti. Sempre l'Ocse afferma che nel 2009 il risparmio delle famiglie era crollato al 6,8%. Era crollato quasi quattro volte tanto. In conclusione, vediamo ora quali sono le cause principali del credit crunach delle banche nei confronti delle imprese italiane, delle quali ne falliscono migliaia ogni giorno. Linea rossa del grafico sopraindicato rappresenta le aspettative generali sull'outlook economico. Cioè sulla prospettiva dell'economia. Le banche sanno che lo Stato italiano non può più emettere moneta per far ripartire l'economia italiana. Sanno che ora la creazione di attività finanziarie per i cittadini e le imprese è completamente in mano alle banche. Dato che lo Stato è stato tolto di mezzo. Con la differenza però che lo Stato crea ricchezza finanziaria netta. Un'attività netta per cittadini ed imprese. Mentre le banche commerciali creano attività sempre controbilanciate da passività. Ovvero zero ricchezza finanziaria netta. Le banche sono pro cicliche. Ovvero seguono il ciclo economico. Ad una situazione di espansione economica. Le banche prestano e finanziano gli investimenti. Ad una situazione di recessione. Come quella in cui ci troviamo. Chiudono i rubinetti facendo crollare l'economia. In questa situazione di recessione economica dovuta all'eurozona. L'Italia si trova con un tasso di disoccupazione o all'11% ed un tasso di utilizzo della propria. Capacità produttiva peggiore di tutti gli altri principali paesi europei. Come mostra il seguente grafico elaborato dall'Istituto Thomson Reuteras. A fronte di tutto ciò, abbiamo compreso come il mito dell'Italia della lirezza è un falso. Abbiamo compreso come l'Italia della lira era l'Italia che entrò nel G7. L'Italia che con il suo export terrorizzava i tedeschi e l'Italia che era la prima economia europea per produttività industriale. Eravamo il leader dell'economia europea. Dopo dieci anni di euro. Siamo tra i maiali d'Europa. Di Valerio Spositi. Fonte. HTTP. Eurotruffa. I.